ciao a tutti ben di amor no bentornati su ready or not oggi andiamo in questo percorso sinuoso dove di sunuoso c'è la da si di tua mamma sei pronto? no oh questo è tosto allora venimi dietro e stai zitto poi no si calmi controllo controllo la saliglia aspetta no orreo nemico di fronte a noi allora apri e uno a sinistra probabilmente apri la mia è la di fronte ok sono ferito a un braccio ero uccidico per favore fotti i coglioni è morto è morto com'è la dora oh sampi cacchia inizia di a te oh dov'è sta dietro a sto pancone il pezzo di ma tu ne è uscito e è andato fuori è andato per di qua oh aspetta fammi conti un qua F tre quarti d'ora per aprire la porta oh aspetta aspetta qua c'è qualcuno sei topo il topo è pieno eh ok server dovremmo passata sopra ci stanno chiamando di fronte grandissimo morto dovremmo passata sopra più comodo ci sparano va dietro peso 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 si però prendi testa di cazzo sono io sampi sampi aspetta boom 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 aspetta aspetta ok adesso si va da sopra grazie no no come non sentite nemmeno cazzo 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 vai a fare cazzo che è questo occhio a destra occhio a destra occhio a destra occhio a destra cazzo stay down faggia ma cazzo ho dei passi qua dei slats oh oh chi è che faione ma che cosa stava fatto oh oh stai a bagnarsi chi è è solo qua non lo so occhio dove 9 qua retina lsbd 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 grazie vario lsbd ma lsbd 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 Grazie a tutti